Sono su Crash Royale perché non ho la minima idea di cosa poter portare come contenuto E penso che questo sia un buon contenuto Tappa Buki Molto carino Non l'ho mai portato penso Molto seee figo Oh no No vabbè ho il Tron come... Mamma mia Io ho il 2.6 quindi Gioco quello da un sacco di tempo perché io seguivo Grax Seguo anche il grande ciccio però Diciamo che per i deck io preferisco le cose leggere, semplici e veloci Non voglio andare sul complesso Su tutte quelle cose che pesano un sacco Non mi vado di aspettare Toglio qualcosa che funzioni subito e immediato Sì zitto Ti blocco zitto Allora col domatore lo lancio che ho il 14 Cioè sono un mostro Ho tutto Cioè ho tutto praticamente Sì Troppo Allora questo è un problema L'alancelo lungo quindi devo fare così Ma ma Vabbè ma sono Sono incredibile comunque Te lo dico io Te lo dico Guarda Piazza il canone qua Lui va sul cannone Perché ormai io lo conosco questo gioco Anche se vabbè ci sto ricominciando a giocare da Tipo una settimana Non mi ricordo quando Questo è difficile Come situazione Vabbè tu sai per forza il troco Vabbè il suo barile lo Fermerò un'altra volta Ma qual'è il problema Momento di stallo Ma questo è russo O no Avrai il razzo sicuro Allora io vado col domatore E Ah c'è al 10 Questo lo sciolgo Te lo dico io Te lo dico io che lo sciolgo Guarda Boom E ho fatto un sacco di Di hit A torre Attenzione Dove avere Esatto Il tronco Il tronco Eccolo Ok No Questa è impossibile che la perdo Perché sono troppo Fortissimo Vabbè Penso di riuscire a gestirmi anche con Le truppe piccoline O comunque io Avendo troppo piccoline Riesco a gestirmi Molte cose Molte situazioni Anche se Tipo la maggior parte delle volte Oddio la maggior parte Mi è capitato ultimamente Molte volte Che Quando giocavo con questo deck Dovevo per forza vincere Andando Cioè mandando Oh no 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 Mandando palle di fuoco Sulla torre Tipo così Guarda Vediamo se smette di scatini Che predict Mamma mia Attimo che ti Ti sblocco E mi metto la corona Ma che predict ho fatto Sono troppo più potente di te Aspetta La cassa d'oro Questa mi serviva Perché Perché cosa ho fatto Ora vi spiego Tre ore subito Allora io sul negozio Questo qui Ho preso Il libro Delle carte leggendarie Io pensavo che fosse Il libro dei libri E invece no E il libro E le carte leggendarie Non pensavo Perché a me Vabbè Le carte leggendarie Chi si prega E cosa ho fatto L'ho messo al tronco L'ho utilizzato sul tronco Però non ho ancora I soldi Quindi Eh vabbè Devo portarlo Poi a 14 Molto figo Quindi si continua Io Non so Se fare No vabbè Facciamo le coppe Le coppe più belle Cioè tu dici Ah guarda Sono Tipo 7000 coppe Anche se ancora Dio alle 6000 Io Invece che dirà Sono Tassetto 2 E lega 1 Ma chi sei È meglio È meglio Avere Questa Govet Col giga Cioè Ovviamente Non si spiega Che lì Il ciccio Mi ha insegnato Ah io Oh Questo è un problema Aspetta un momento Devo capire Come gestirmela Allora I scheletini Per Per la carica Di quell'idiota Poi Il golem Per Quei 2 Eccolo Perfetto Non doveva morire Il mio cannone E fosse il tronco Non ho più niente Subito ho un sacco di danni Ma non è un problema Già Ho dei danni Io A quanto pare Nella vita vera Oh no Il mini mini pecca E che Che faccio Non ho niente Ah è tipo La mongolfiera Non è tipo La mongolfiera Mi ha Mi ha ucciso Quell'azione No basta Ti prego Cioè Hai cambiato un po' troppo Già No Non pensi Anche tu No Ho sbagliato E sono un idiota Sono un imbecile Vabbè Vieni qui Vieni qui Vieni qui Sono comunque Sotto le 6.000 coppe Per un motivo Ok Non è che Così a caso Però adesso Cerco di impegnarmi Ok Al massimo parlo di meno Perché Già Parlare è tanta roba Spreco un sacco di energia E concentrazione Quindi No Questo Non lo volevo In realtà Lo stanno dire Mannaggia Oh no Quello Non ci voleva Io se riesco A fare una cosa divertente Dai Scheletrini E vai Si gode Oh Abbiamo un attacco Anche se vabbè Adesso metti Il gran cavaliere Boom Ovviamente Ah Pugli scheletrini C'hai Che carini Neanche ne avevo visti Uh uh Allora Mi serve questo qui Che è Bam 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 Ok Mi servono gli scheletrini Ok Allora Mi mettiamo il domatore Immediatamente Tanto quello là Viene sciolto Perfetto Mi riservo Una palla di fuoco Mi serve Sì Mi serve Devo lanciare la palla Ormai non posso più Lasciamo stare No 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 Che fai Che fai Che fai Che fai Che fai Ok Ok Aspetta Sono un po' confuso Guardate Non è vero Non c'è bisogno Di essere confusi Ci siamo Ci siamo Niente di Di strano L'importante è che il domatore Faccia una hit Almeno Una E fai due Ma chi sei Ma come ho fatto Ma sono un mostro Ma queste cose io Davvero Sì sì Attacca Mi finisce Buonotte Ma sono troppo forte Le scolaspe Sì è così Ne facciamo un'altra Ma facciamo tre Dai Li mettiamo ciccio Abbiamo il domatore Subito Lo mettiamo C'è la prima cosa che faccio Non ripetere il domatore E basta E via Non mi attacca Ok Vabbè Mi pecca Di tronco Due hit Buono Importanti Sicuramente Spito del ghiaccio Penso che basti solamente due Al massimo di scheletrini Al massimo di scheletrini A quanto pare A quanto pare Sto spiegando un sacco di risi Però dovevo farlo Eh questo Questo è un problema Forse Ma Non so se nemmeno Ah Ma Tira sotto il 15% Ma Vabbè Facciamo l'ultima E basta Qui sono un attimo Confuso Eh È un problema Mi ha fatto Pente tolvere Questo tizio Ah Ha la Tiro tecnica No Una seconda Di potevi Darmela Vabbè Comunque Il mini pecca È morto E anche Quei due Praticamente Dai Dai Una hit Ma chi Eh vabbè Però potevi evitare Ma Mi ha fatto 400 Ma com'è possibile Però comunque È più una torre attiva Quindi se Venisse il domatore Comunque Non dico che siamo coperti Ma almeno qualcosina Almeno qualcosina Almeno qualcosina Allora io metto lui Non voglio modire Non voglio modire C'è Ecco Ovviamente Lo sapevo Tutto animale Che non sei altro Ma comunque Cioè Diciamo che Questo attacco L'ho devastato Non so Non mi ricordo Se avrei Gli scatini Non ce li avrei Perfetto Va bene Due hit Me le porto a casa Quindi Va bene Non è che sia Un problemissimo Questo Eh grazie Mi serve questo Non metto Nient'altro Invece Metto sia questo Sia questo Proprio l'indietro Ok Allora Non c'ha La più tecnica E comunque Sempre Aspetto un momento Dai ma Questo mi fa Danno È colpita Bravissimo È colpita Sì sì Forse Riesco a fare qualcosa Il cavaliere Non dovrebbe farmi Neanche Eh vabbè Pure i mini pecc Tutti quanti Puoi mettere Va bene Ho capito Allora Mi servono Tutte le cose Che posso Avere a disposizione Ok Eh Comunque Mi fa danno Lo stesso Quello là Vabbè Comunque Il tranco Molto buono Molto buono Molto buono Ma questo Non è Molto buono Allora Io Sai che ti dico Cerco di Togli Il 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 Aspetta 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 Sto zitto Si va avanti Eh vabbè Eh non so Quello che potevo fare Quello che non Non lo so Non lo so Non lo so Però mi sa che Potevo Fare di meglio Di più Non lo so Forse Non lo so Sentire Ammazzatevi Davvero Ah ma c'è Quella Varchire Vero Quando Perché non La esce Vabbè Ah ma c'è Il mio Grader Che ha colpito Anche il suo Ha colpito Però anche il mio A me Questa Sembra una Vittoria Invece Vogliamo Dire pirotecnica Perché non Ne posso Più Oh Due Due moschette A me vanno Benissimo Certo Quella là Mi va un po' Meno Bene Dai Tronco Non essere Tutto Noi Non si Inutile Questo Tronco Vabbè Facciamo così E basta Stogliamoci le cose Che voglio Ok Sempre qualcosina Devo stare un attimo Più attento Perché sono Perché sono un po' Stupidino Come si dice In gergo Scemo E il cavaliere Mi fa una hit Vabbè Non è Importantissima Però Allora Sfera Infocata Molto importante Che mi va A togliere Quei due Maledetti Idioti Perché sono Diciamolo Veramente Sinceramente Moschettiere Che mi da una grande mano Ti prego Aiutami Se togliamo la pirotecnica Anche il mini pecca Che mi dava una hit in meno Col tronco abbiamo vinto Dai Si vola Si vola Si vola Si vola Bella giocata E io ti dico Quella è bella partita Perché è stata una bella partita Perché ho vinto Ovviamente Se l'avessi vinto Sarebbe stata una bella partita Tra poco a dire Se mi raccomando Questo video Perché ho il telefono Quasi scarico E quindi Meglio evitare Evviva Clash Real Boh È stato comunque Molto carino Ci vediamo Ma Che Boh